Una serata dir poco magica, capace di coniugare musica jazz d'autore con Alta Cucina. E quella svoltasi lo scorso sabato, nell'incantevole cornice del Frida Beach, in Viale Cristoforo Colombo, nel cuore del lungomare di Schiavonea, Borgo Marinaro e località turistica di Corigliano Rossano. Il Peperoncino Jazz Festival è infatti fatto tappa proprio a Frida Beach, grazie alla disponibilità e alla sensibilità della famiglia Versente, e in particolare al modo di Francesco Versente, vero e proprio appassionato e intelligente cultore del settore, dando così vita ad una suggestiva immersione nella vera musica nera d'oltreoceano che ha registrato la grande partecipazione e soprattutto tante emozioni da parte di coloro che hanno preso parte all'evento, sia con cittadini che persone provenienti da altri comuni per l'occasione, nonché turisti, e che si è registrata in assoluta sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le norme di prevenzione e contenimento del Covid-19. Una serata che ha visto andare in scene il nuovissimo organ trio del talentuoso chitarrista calabrese Roy Panebianco, vingitore di numerosi premi e riconoscimenti in giro per l'Italia e protagonista di numerose collaborazioni di rilievo, che oltre al fenomenale organista Leo Corradi ha visto anche la partecipazione, in qualità di special guest, di un vero e proprio gigante del lato in jazz, Orazio e il negro Hernández. Il trio è nato dalla profonda amicizia e del grande feeling musicale che unisce Roy, musicista eclettico dell'animo funk, e Leo, organista soul e creatore di atmosfere cariche di Grove, i quali collaborano da diversi anni, accompagnando tra l'altro la strepitosa Mrs. Martha Haidt, al fianco di James Brown per oltre 30 anni, in giro nei festival e nei club più importanti e famosi del mondo. Questa sinergia di ritmo e groove è il curiosito Orazio e il negro Hernández, batterista cubano di fama mondiale, sembra la ricerca di nuove sonorità, di progetti creativi, di collaborazioni stimolanti. E così un artista che ha suonato accanto ai più grandi artisti di Latin Jazz al mondo, ma anche della scena musicale contemporanea, si è incontrato musicalmente con due, tra i più creativi e caridosi giovani musicisti della scena italiana. Il risultato è stato un nuovo progetto basato su brani inediti, è caratterizzato da contaminazioni latine e da un sound fresco e accattivante. Una serata magica, come dicevamo, quella svolta sì sabato sera nell'ingandevole cornice del Frida Beach, che soprattutto ha coniugato la musica jazz e l'autore con l'alta cucina. Una vera e propria serata dedicata all'enogastronomia, con delle vere e proprie eccellenze, delle pietanze, risultate particolarmente apprezzate da tutti i convenuti, che hanno accompagnato questi momenti, queste ore, all'insegna della ottima musica. Una tappa prestigiosa, come dicevamo, questa del Peperoncino Jazz Festival, grazie alla bella indizione di Sergio Gimiliano e soprattutto, come dicevamo, grazie alla disponibilità e alla sensibilità della famiglia Aversente e in particolare di Francesco Aversente, appassionato, cultore del settore e da sempre sensibile ad iniziative di questo genere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.